Orgoglioso di essere napoletano di adozione, anche perché sono nato a Capri, però questa Napoli la porto nel cuore, la porto nel mondo quando giro, quando ho bisogno di un momento di relax, è sempre presente, quindi questa mia occasione di poter parlare a voi tutti e per dire che molti dei miei colleghi sono andati via, però Peppino di Capri rimane qui col cuore, con l'anima, con la voglia di fare e perché no con quel pizzico di arte che ci rimane e che ci fa grande in giro per il mondo. Grazie Napoli.